ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco sisteme par a cosa serve sisteme par a un parafarmaco appartenente alla categoria degli integratori per il fegato e vie biliari e commercializzato in italia dall'azienda fitosystem srl informazioni commerciali titolare fitosystem srl concessionario fitosystem srl categoria di appartenenza integratori per il fegato e vie biliari confezioni sisteme par soluzione idroalcolica 50 ml indicazioni drenante epato barra biliare alitosi unghie asfaldate stitichezza da disfunzione della colicisti prurito ipocolertero emizzante utile in caso di calcoli biliari descrizione e caratteristiche depurativo per il fegato la particolare associazione delle pianoti piante tra cui berberis cardo mariano curcuma carciofo nel favorire l'attività epatica fa di questo prodotto un eccellente depurativo e disintossicante per il fegato e per le vie biliari ha indicato anche in caso di alitosi unghie asfaldate stitichezza e prurito in genere data la sua complessa composizione anche una spiccata attività antiossidante analisi ingredienti composizione cutia in 50 ml g barra die berberis vulgaris tm corteccia 4,528 g 1,109 g barra die sibilum marianum tm frutti 4,528 g 1,109 g barra die cinara scolimus tm foglie 4,528 g 1,109 g barra die curcuma longa tm rizoma 4,528 g 1,109 g barra die rafanus sativus tm radici 3,528 g 0,085 g barra die rosmarinus officinalis mg g giovani getti 3,528 g 0,085 g barra die teraxa cum officinalis tm sommità fiorite 3,528 g 0,085 g barra die un glanzere g mg gemma 3,337 g 0,081 g barra die un iperus comunis mg giovani getti 3,337 g 0,081 g barra die e un musbol sud tm foglie 3,337 g 0,081 g barra die ribis nigrum mg gen 2,701 g 0,065 g barra die valeriana officinalis tm radice 2,062 g 0,0 50 g barra die fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato